Ragazzi, sono a Fratta Maggiore e sono arrivato nella sede del British Institute. La sede è aperta e funzionante e sono cominciate le iscrizioni per l'anno scolastico 24-25. Quante volte mi avete chiesto, ma va bene per i bambini, ma va bene per i grandi, ma io ho 60 anni? A tutte le età si può imparare l'inglese! Statevi a sentire, qualunque età abbiate, fate il test, è gratuito, così cominciate a capire da che punto partire per migliorare il vostro inglese. Il link del test lo trovate in sovraimpressione o nei commenti. Il test vi permetterà di capire a che punto è il vostro inglese e da che punto dovete partire per migliorarlo o impararlo. Ah, sorry, state facendo una lezione individuale? It's ok, I'm sorry, I'll be back later, bye bye. Se volete, potete fare anche delle lezioni individuali per imparare a parlare l'inglese come lo parlano gli inglesi qui al British Institute di Fratta Maggiore. Sentite a me, fate il test, è gratuito, trovate il link in sovraimpressione o nei commenti. Facendo questo test potrete capire a che punto è il vostro inglese e se preferite le lezioni individuali, there's no problem. Il British Institute di Fratta Maggiore è uno dei dieci migliori British Institute d'Italia. Venite qui per parlare l'inglese come lo parlano gli inglesi. Grazie. Grazie.